Si è tenuta questa mattina nella sede dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti a Roma la conferenza stampa di presentazione dei vincitori della seconda edizione del premio giornalistico intitolato a Giuseppe Zilli. La cerimonia di presentazione si terrà il 29 luglio nella meravigliosa cornice dell'eremo dell'Annunziata a Fano Adriano. Io sono stato felice, onorato di essere chiamato alla presidenza di questo premio e di aver contribuito alla scelta dei premiati che mi sembra una scelta ben fatta, perché abbiamo giornalisti giovani e meno giovani di grande peso nazionale e di formazione locale. Un premio alla carriera a Renato Minore che è uno delle colonne del giornalismo culturale negli ultimi 40 anni, oltre ad essere un intellettuale, uno scrittore, uno che sta lasciando dei segni molto importanti nella cultura nazionale. Abbiamo Maria Teresa Meli che è una famosissima giornalista politica che nel corso della sua carriera si è trovata parecchie volte proprio a confronto con un potere a volte anche arrogante e ha saputo rispondere come deve fare una giornalista. Abbiamo la giovane conduttrice del Tg1 Isabella Romano, insomma non li sto a elencare tutti, però mi sembra una scelta appunto varia e tutto sommato ben fatta, possiamo dirlo con un minimo di orgoglio. Don Giuseppe è una persona importantissima per Fan Adriana, al di là del fatto che abbia ricoperto il ruolo di direttore dal 54 all'80, ma ha lasciato un ricordo ancora indelebile, come ha potuto vedere Barbara nell'intervista e nelle pillole. Ancora oggi nutriamo, i fani si nutrono, un carissimo ricordo verso Don Giuseppe Zilli, perché era una persona buona, una persona che non lesinava mai a dispensare una parola di conforto, una parola di aiuto, una visita alla persona sofferente, ai malati. E questa è una cosa che la comunità di Fano, che ho l'onore appunto di amministrare, non dimenticherà.